Lorenzo Riccardi è un ex tronista di Uomini e Donne. Anzi, è stato prima corteggiatore, poi tronista. In qualità di corteggiatore non è stato scelto. Rimasto single, Maria De Filippi gli ha chiesto poi di sedere sulla sedia rossa. Riccardi, in quell'occasione, ha iniziato una frequentazione con Claudia Dionigi. Quella che poi è stata la sua scelta ed è, attualmente, la sua compagna di vita. I due stanno insieme ormai già da qualche anno. Formano una coppia solida, convivono e recentemente, in un'intervista rilasciata a Radio Radio, Lorenzo ha parlato proprio di quanto stia bene con la sua Claudia. I due pensano a un futuro fatto di fiori d'arancio e bambini. Ma attenzione. Lorenzo ha bisogno ancora di tempo per sé per viaggiare e vedere il mondo. Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne contro il grande fratello Vip. Insomma, Lorenzo Riccardi è molto deciso. Lo è sempre stato. Con Claudia c'è la voglia di costruire una famiglia, di creare un futuro insieme. Ma con calma. Nel frattempo, l'ex tronista pensa anche al lavoro. Ha aperto degli store, ma il sogno televisivo resta. Come ha sottolineato durante l'intervista, ogni anno, quando inizia il toto nome per il grande fratello Vip, spunta sempre il suo nome. Ed è vero. Riccardi però ha sottolineato che non diventa mai qualcosa di concreto. Anzi, le sue parole sono state queste. Il mio nome gira ogni anno. Però chissà come mai prendono sempre i cadaveri mentre io resto sempre a casa. Questo è il modo colorato di Lorenzo Riccardi di comunicare ad Alfonso Signorini che sarebbe pronto a intraprendere questo percorso e che la sua verve, il suo essere istrionico darebbero un grande apporto al reality. Chissà che il conduttore e direttore di chi non abbia ascoltato e abbia voglia di raccogliere la sfida.